Ciao a tutti ragazzi, bentornati nella Tana del Drago, video velocissimo per dirvi che oggi sono usciti i codici della beta di Destiny e io e Fabbro volevamo regalarvi 4 codici per accedere alla beta di Destiny che non usiamo, ne abbiamo usato uno per noi, ne avanzano due a testa, quindi volevamo regalarlo ai seguaci della Tana del Drago e i più veloci che riusciranno a scaricarselo potranno accedere a questa beta di Destiny per PlayStation 4 è semplicissimo, poi vi basterà inserire il codice nella riscatta codice della PlayStation 4 su PSN e poi vi scaricherà un piccolo file che dovrete aprire e da lì inizierà a scaricarvi la beta quindi buona fortuna a tutti, i primi che arriveranno chiaramente meglio si accomoderanno, vi lascio ai codici ciao ragazzi e ci vediamo in live